Buongiorno, siamo qui con Cappacolella, migliore in campo di una partita tra Vreng e Neapolis terminata, sorprendentemente 17-0 per i Vreng, Cappacolella, difensore autore di 3 gol. Allora, Colella, mi hanno detto di non farti un plauso per i gol, ma più che altro per come giochi a difesa? Diciamo che è stata una partita un po' particolare, abbiamo giocato solo noi, abbiamo cercato di fare il più gol possibile per la differenza e per la classifica, poi abbiamo giocato sia dietro, sia avanti, abbiamo dato tutto, comunque tutti. Sì, infatti, nonostante il basso tasso tecnico della squadra avversaria, comunque i Vreng hanno dato il massimo. Abbiamo giocato al massimo, e faccio la sette gol. Appunto, poi vabbè, voi siete i primi in classifica a vi confermare il taglio? Siamo la new generation che gioca oggi, mo'. Ho capito, ho capito. Ma poi tra l'altro ho saputo della sconfitta contro i conto Arancio. Sì, è una partita sportiva, ha giocato malissimo molti quanti. Compreso tu? Eh, stai spulso. Addirittura, vabbè, non ci credo, vabbè, voi senti, voi dedicare i tre gol, il premio... Li dedico a Mr. Raul, che oggi non c'è, non è venuto. No, lo sappiamo noi chi. E poi sappiamo noi chi. Ok, va bene, allora ciao capo e arrivederci. Ciao, ciao.